Il sistema Lombardo sta resistendo al contesto negativo internazionale. I dati dell'ultimo trimestre del 2023 sono positivi con una crescita della produzione industriale e artigianale. I rischi geopolitici che minacciano il flusso degli scambi commerciali internazionali con i recenti problemi legati al canale di Suez, uniti al perdurare della crisi industriale tedesca e agli alti tassi di interesse, al momento non sembrano minare pesantemente il comparto manifatturiero Lombardo. Alla presentazione dell'analisi congiunturale di Union Camere Lombardia, il presidente della regione Attilio Fontana ha commentato positivamente i dati. È una grande notizia perché è la dimostrazione che nonostante le tante criticità che stanno mettendo in difficoltà altre economie anche più forti della nostra, il nostro comparto sta invece reagendo in maniera eccellente. Lo è stato detto grazie alla capacità di essere flessibili, grazie alla capacità forse di avere sempre vissuto l'esperienza imprenditoriale in una situazione difficile che è cronica nel nostro Paese, ma dà anche la forza di reagire in questi momenti. Quindi grande piacere, grande gioia per questa notizia, anche perché premia ancora una volta il modo di fare e di collaborare che esiste in regione, la capacità di mettere insieme il pubblico e il privato, la capacità di collaborare reciprocamente da questi risultati. Alla presentazione dell'analisi congiunturale che si è svolta a Palazzo Lombardia è intervenuto anche l'assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi. Le imprese da noi sono parte oggettiva della nostra comunità, noi continuiamo a lavorare con l'ecosistema, a volte troppo spesso le influenze che arrivano da fuori sono sempre negative, e lo ribadisco, qualche volta anche insieme a noi altri soggetti dovrebbero pensare a dare una mano al sistema produttivo. Il tema principale, il tema che oggi ci mette più in difficoltà è l'incapacità di accedere al credito in maniera facilitata per le nostre imprese, causa costo del denaro, per cui le nostre imprese hanno procrastinato gli investimenti. Speriamo che la BCE intervenga il prima possibile perché noi resistiamo, le cose stanno andando meglio rispetto a quanto era stato previsto, i dati lo dimostrano, però abbiamo bisogno di un aiuto. Positivo anche il commento del presidente di Union Camere Lombardia, Gian Domenico Auricchio. Tre mesi fa nessuno, forse neanche gli stessi imprenditori, si aspettavano un rimbalzo positivo nel quarto trimestre. Tenete presente che è molto importante, nonostante i dati siano un rimbalzo contenuto, perché cambia la rotta che si era costruita durante l'anno e soprattutto nel terzo trimestre. Credo che, e nonostante sia scoppiata la guerra in Medio Oriente, nonostante i problemi nel canale di Suez, io credo che è una vittoria dell'impresa artigiana e industriale lombarda. Credo che la qualità dei prodotti lombardi e la ricerca di nuovi mercati, dato che la Germania, che è il principale sbocco dei prodotti lombardi, è in difficoltà, credo che questa è la testimonianza della capacità del benfare degli operatori economici lombardi. Grazie ai risultati di fine anno, il 2023 può essere considerato un anno in positivo. Migliora anche il clima di fiducia. Sentiamo Francesco Buzzella, presidente di Confindustria Lombardia. Sì, aumentano fatturate ordini esteri rispetto al dato congiunturale. Quindi se confrontiamo l'ultimo trimestre del 2023 rispetto a quello precedente, a livello invece tendenziale abbiamo un certo calo, 0,8. Nonostante tutto sono dati che io ritengo ancora positivi. Possibilità di effettuare visite mediche ed esami ospedalieri anche il sabato e la domenica. La domenica è uno dei progetti illustrati dall'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, a margine dell'incontro con i rappresentanti delle ASST della provincia di Milano e Lodi e dell'ATS della città metropolitana. Senza far nomi, il direttore di un'importante struttura ospedaliera di Milano ha indicato gli orari lavorativi che questo ospedale potrà adottare entro pochi giorni. Quindi significa che, ad esempio, gli ambulatori e le visite mediche in quell'ospedale si potranno svolgere tutti i giorni, sabato compreso, dalle 8 di mattina fino alle 20. E anche la domenica, dalle 8 di mattina fino a mezzogiorno. Quindi è l'obiettivo che noi vogliamo tenere gli ospedali pubblici aperti sempre. Da oggi noi daremo esattamente quelli che sono gli obiettivi specifici che ogni struttura che garantisce prestazioni di visite e di esami deve essere in grado di realizzare. Come lo facciamo? Aumentando il personale, aumentando le risorse economiche disponibili e anche allungando i tempi di lavoro. Riusciamo tutti orgogliosi di far parte di questo sistema sociosanitario non solo dell'area metropolitana di Milano ma di tutta la regione. Abbiamo ascoltato delle relazioni da un punto di vista tecnico assolutamente perfette. Abbiamo visto dei numeri di persone coinvolte, di trattamenti che vengono garantiti, di prestazioni, di visite mediche, di interventi chirurgici. Forse i cittadini di questa regione non sono perfettamente consapevoli di questo immenso e preziosissimo patrimonio di cui dispongono. È ovvio che ci sono sempre delle cose che non funzionano. Ci sono delle piccole deficienze, dobbiamo sistemare dei numeri, dobbiamo garantire ovviamente molto meglio quella che è la problematica della soluzione dell'istattesa, dobbiamo migliorare ancora di più i pronto soccorsi, dobbiamo garantire un rapporto sempre più stretto fra medicina del territorio e strutture ospedaliere. Però davvero devo dire che questi fatti che ci sono stati presentati oggi e non queste parole che sentiamo tutti i giorni, sono lì a dimostrare che abbiamo una risorsa straordinaria che vogliamo proteggere, che vogliamo valorizzare e dove possibile vogliamo rilanciare. 400 mila euro per ammodernare la flotta di navigazione pubblica di linea sul lago di Seo è quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale. Il provvedimento contiene lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e autorità di Bacino la quale dei laghi di Seo, Endine e Moro per l'attuazione e il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria della flotta adibita al servizio di navigazione pubblica sul Sebino. L'assessore Lombardo ai trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente, sottolinea che con questo stanziamento la Regione fornisce all'autorità di Bacino risorse fondamentali per ammodernare la flotta di navigazione, in particolare per attività di revisione dei motori, di adeguamento degli impianti di bordo, dello scafo e delle sovrastrutture, interventi fondamentali per garantire i servizi in un'ottica di sostenibilità e di valorizzazione dell'attrattività del sistema la quale. Il documento approvato dalla Giunta definisce azioni, responsabilità e tempi certi per l'avvio, la realizzazione e il completamento degli interventi sulle unità navali Città di Brescia, Costa Volpino, Lovere, Marone, Sebino e Libeccio. L'assessora alle infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi evidenzia che l'impegno della Regione Lombardia per migliorare la navigazione pubblica sul lago Diseo è concreto. Si tratta di un servizio di grande importanza per tutto il territorio, coinvolge i residenti come studenti e lavoratori ed è il volano per quanto riguarda le attività legate al turismo e in generale all'attrattività del Sebino. A questo proposito l'assessora a turismo, moda e marketing territoriale, Barbara Mazzali, sottolinea l'importanza di potenziare la sicurezza e l'efficacia della navigabilità dei laghi che hanno trainato i numeri record del turismo lombardo nel 2023. Nei giorni scorsi il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato un provvedimento che riguarda i piani di governo del territorio, gli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni. appunto un provvedimento che cerca di andare incontro alle esigenze dei comuni. Ci spiega perché Roberto Anelli, consigliere regionale della Lega, quale problema si stava creando e cosa prevede questo provvedimento. Allora, diciamo che questo provvedimento è figlio di un primo provvedimento che negli anni 2014, dove praticamente è stato così deliberato un progetto di legge per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione urbana. Questo progetto di legge unico in Italia, perché la regione Lombardia è l'unica regione che ha fatto un provvedimento di questo tipo, che è un provvedimento dove nell'arco degli anni si vuole andare a ridurre il consumo del suolo. Basti capire che già oggi c'è nei piani di governo del territorio, quindi che sono stati approvati, c'è già una riduzione media del 25%, per arrivare poi a un consumo pari a zero. Però il provvedimento del 2014 prevedeva una tempistica particolare, perché questi provvedimenti venissero poi recepiti dai piani di governo del territorio provinciali e anche ovviamente dalla città metropolitana, per poi essere recepiti a loro volta dai comuni. Questa tempistica per essere recepita dai comuni, soprattutto per i comuni bergamaschi, sono circa 110 comuni bergamaschi che dovevano recepire ancora queste indicazioni, scadeva i primi di marzo. È ovvio che se non ci fosse intervenuto un'ulteriore proroga di 15 mesi, come siamo andati a fare il 20 febbraio di questo mese con un progetto di legge ad hoc, questi comuni rimanevano senza una pianificazione urbanistica, quindi senza più né costruire né rigenerare, ma ancora di più senza poter più introdurre oneri di urbanizzazione e nemmeno l'Imu, perché quei terreni, quei territori dove era previsto un insediamento volumetrico si azzeravano. Questo diventava quindi un problema gravissimo sia per le casse che per la programmazione di questi comuni. Con questo ulteriore provvedimento deliberato, come ho detto, il 20 febbraio del 2024, abbiamo prorogato di ulteriore 15 mesi la scadenza per aggiornare i piani di governo del territorio, e quindi il documento di piano, in modo tale da mettere in sicurezza i comuni, non dimenticando anche che più di 900 comuni di regione Lombardia vanno al voto e che quindi molto probabilmente non sarebbero nemmeno riusciti, nell'arco di così poco tempo, a deliberare per l'aggiornamento dei piani di governo del territorio. Lo sport come occasione per superare se stessi e i propri limiti. E' questo il tema chiave di Limitless, il murale che punta a promuovere una maggiore conoscenza tra i cittadini sulla meningite. L'opera ideata e realizzata a Milano da SMOE Studio con il contributo di Sanofi nell'ambito del progetto Nulla Virtus è stata presentata a Palazzo Pirelli alla presenza della sottosegretaria alla presidenza di Regione Lombardia con delega a sport e giovani Lara Magoni. Un progetto molto importante sostenuto da Sanofi che va a prevenire la meningite, una malattia che colpisce 2 milioni e mezzo di persone nel mondo, il 10% perde la vita e il 20% rimane purtroppo con delle amputazioni veramente molto importanti e lesioni cerebrali. Tutto questo va oggi sostenuto dal fatto che saranno 5 murales che saranno dipinti in città Milano. Il primo è stato già finito ed è bellissimo, è un campione paralimpico amputato che gareggia. Questo è un messaggio di conoscenza, un messaggio di conoscenza verso il vaccino, per la prevenzione, ma soprattutto sono qua come sottosegretario dello sport e giovani per annunciare che Regione Lombardia è vicino, è vicino al mondo dello sport, ma soprattutto è vicino all'inclusione e all'aggregazione. Infatti c'è un bando molto importante, voluto fortemente, chiaramente con la collega, l'assessore Guido Bertolaso, che ha un milione di euro per poter acquistare una protesi a un ausilio per fare sport. Penso che sia un messaggio molto importante di Regione Lombardia che affianca quindi tutti coloro che di 10 anni in su con difficoltà motorie possano avvicinare lo sport e quindi vivere lo sport in un modo totalmente inclusivo. Oggi c'era un testimonia straordinario, Andrea Lanfri, che ha 29 anni con tre la meningite e perde quindi gli arti e ha dimostrato che non ha avuto nessun tipo di limite ma ha raggiunto l'Everest. Quindi è stata una testimonianza forte e concreta per far sì un messaggio veramente verso i giovani che i limiti non esistono, i limiti sono dentro la nostra testa e quindi ancora una volta è lo sport che diventa un messaggio, è uno strumento universale proprio per dire ricominciamo tutti insieme. Si parte da una informazione e soprattutto anche una prevenzione e poi oltre a questo diciamo che è una prima fase diciamo iniziale sprona quelle persone che magari hanno paura di intraprendere un nuovo percorso, una nuova avventura, una nuova vita. Quindi vuole essere un po' per riunire e anche per dimostrare che veramente se si vuole, se si sogna di fare una cosa, una passione, si può veramente fare ben oltre di quello che si può pensare. Per me lo sport è la mia vita ad oggi, posso dirlo veramente appieno, lo ha sempre rappresentato ma ad oggi è ancora di più. Oltre ad Andrea Lanfri alla presentazione di Limitless è intervenuto anche Smoe alias Giorgio Marzo, ideatore dell'Opera. Il progetto si chiama Nulla Virtus ed è un progetto sugli sport invernali e sui valori dello sport che sarà sviluppato nell'ex calo di Porta Romana a Milano. Oggi abbiamo presentato la prima opera che è Limitless grazie al contributo di Sanofi qui al Palazzo della Regione e saremo da qui al 2026 all'opera sulle altre quattro pareti perché in totale sono cinque. Con Limitless abbiamo voluto affrontare appunto il tema delle persone diversamente abili, infatti è un asciatore con una gamba per far sì, per testimoniare che si può andare oltre i propri limiti anche quando ci sono problemi come appunto la meningite, infatti nell'opera oggi presentata è stata inserita la bandiera della meningite, i colori della bandiera alla prevenzione alla meningite, suggerita appunto dal nostro partner, in questo caso Sanofi. Il viaggio in Lombardia tra manieri, borghi fortificati, dimore storiche, pievi medievali è pronto a ripartire dal 3 marzo. L'iniziativa Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi è stata presentata a Palazzo Lombardia dall'assessora regionale a turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali. Questo è un percorso tra l'altro che oggi compie dieci anni ed è un percorso che attraversa cinque delle nostre province, quindi partendo da Milano e scendendo nella parte orientale della nostra regione dove abbiamo il patrimonio più importante di piccoli borghi, di castelli e di dimore storiche. Oggi noi parliamo di questo, festeggiamo i posti, mi piace immaginarli come i posti più nascosti della nostra regione ma che sono quelli più ricchi del nostro patrimonio valoriale. Quindi piccoli borghi, castelli straordinari, dimore storiche che si aprono ai turisti e che per quattro mesi all'anno accolgono e fanno visitare questo nostro patrimonio culturale. Un patrimonio culturale che per il turismo è importantissimo perché come ormai ci siamo detti in tantissime occasioni, oggi il turista è cambiato, esce dalle vie iconiche, non è più interessato agli itinerari famosi, chiamiamoli così, ma vuole vivere delle esperienze, vuole entrare in contatto con le nostre comunità e questo è il modo migliore per accoglierli. Comunità, piccole comunità, patrimoni culturali straordinari, enogastronomia di eccellenza, insomma un'offerta turistica a Lombarda di grande successo che oggi compie dieci anni. L'iniziativa Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi è coordinata dall'Associazione Pianura da Scoprire, sentiamo il presidente Giuseppe Togni. Lombardia nasconde tantissimi scrigni che vale la pena visitare e quest'anno noi compiamo dieci anni. Un'iniziativa quella di Castelli Aperti che è iniziata dieci anni fa dall'idea di Diego Moratti che oggi è qui con noi e che oggi vuole rinnovarsi. Abbiamo rinnovato la grafica, una grafica molto più vicina ai giovani, molto più vicina ai social e in più quest'anno distribuiremo 5.000 passaporti con l'obiettivo di fidelizzare i cittadini che vorranno frequentare queste dimore storiche. Ogni dimora avrà un proprio timbro personalizzato e il visitatore potrà quindi fare questo percorso di 24 realtà, farsi apporre il timbro e quando arriverà in fondo abbiamo delle idee ma non le svegliamo perché se no svegliamo tutto oggi. Ecco questo è il passaporto, molto bello, all'interno c'è la descrizione di ogni singola realtà quindi con un pezzettino di storia e poi si trova tutto sul sito di www.pianurodascoprire.it I numeri dell'iniziativa sono cresciuti nel tempo sia come visitatori che come giorni di apertura. Sentiamo l'ideatore Diego Moratti. La sfida è stata proprio questa, l'idea è stata, lavoravo al borgo di Martinengo, nella proloco di Martinengo e per promuovere le visite guidate al nostro borgo medievale abbiamo pensato insieme al comune di Romano di Lombardia che aveva una bella rocca viscontea e al castello di Malpaga di mettere insieme le forze. Abbiamo detto apriamo congiuntamente e facciamo un comunicato stampa insieme, una promozione congiunta e vediamo che risposta c'è e sono luoghi non soliti a turismo di massa e per quella giornata, mi ricordo ancora, era il 25 aprile, sono arrivati 200 e passa turisti cosa che per noi era stato un successo. Grazie a tutti.